buongiorno a tutti oggi è domenica 18 ottobre e siamo qui a sono qui nella mia azienda cercando di vedere se è possibile preparare il letto di semina per la semina del triticale e concludere l'ultima semina di cover dove non ho più il contributo e quindi c'è una piccola parte dove praticamente non prendo il contributo e non ho l'obbligo del mese tra la raccolta e la semina volevo fare inoltre un esperimento su delle cover leggermente diverse ma che seguiranno in un video ad hoc pertanto adesso non vi devo parlare di questo quello di cui voglio parlare oggi è il discorso dell'erpicatura quest'anno il 2020 è un'annata veramente particolare non ci siamo fatti mancare assolutamente niente in termini di problemi intendo avevo incominciato ad accarezzare l'idea di seminare le cover e poi di seguito il triticale se non che cos'è successo è successo che vado a prendere da mio fratello visto che gli attrezzi abbiamo ancora insieme nonostante la divisione il mag che vedete nelle immagini in sovrimpressione il mag l'attrezzo che conoscete bene perché è quello con cui faccio la minima lavorazione e faccio la preparazione del letto di semina sia del mais che del triticale che di tutto e niente ci sono rotti dei cuscinetti ci sono delle problematiche di conseguenza lo porto a far sistemare e dico vabbè niente abbiamo perso una giornata vado a prendere il karat della lenken cosa succede arrivo qua col karat della lenken non faccio tempo a metterlo nel campo si rompe il timone e di conseguenza mi è caduto per terra fortunatamente non è successo su strada perché se no veniva fuori un disastro e altro che agricoltura innovativa mi leggevate sulla sulla cronaca del corriere della sera o dei giornali quanto meno locali quindi due erpici da minima lavorazione due erpici rotti il karat della lenken abbiamo ordinato i pezzi la settimana scorsa e non sono ancora arrivati infatti gli tiro le orecchie a quelli della lenken che voglio dire una cosa scandalosa che dopo otto giorni non siano ancora arrivati un pezzo da dove diavolo deve arrivare non lo so da onolulu probabilmente e invece il mag è a posto sono andato a prenderlo sabato però cosa è successo è successo che giovedì scorso sono venuti 35 millimetri avrei già finito io di disseminare perché da giovedì a giovedì in otto giorni avrei già fatto le 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 70 65 70 ettari che dovevo fare purtroppo invece sono qua ancora oggi a provare a vedere se da giovedì a domenica la terra è asciugata abbastanza da poterla lavorare dagli la prima passata venerdì tra cinque giorni le previsioni danno ancora acqua e vediamo che cosa succede per il momento la risposta se si può o no andare è ancora subiudice ancora in divenire non l'abbiamo ancora capito in questo momento stiamo facendo la prima passata senza le ancore per affiorare un po il terreno e farla sbiancare come si suol dire fargli prendere un giorno di vento e sole sperando che migliori la situazione per poi dare eventualmente la seconda passata oppure come vedete alle mie spalle probabilmente si può anche seminare senza seconda senza dare la seconda passata però siamo sempre lì a dire in che campo cominciamo quel campo lì è un po più bagnato quello un po meno bagnato siamo siamo al limite ecco la terra adesso sembra che venga bene dalle immagini che vedete alle mie spalle in realtà non è perfetta sicuramente non è in tempera non è perfetta spero che con ripeto un giorno di sole e di vento che c'è su un po' d'arietta possa possa migliorare altrimenti andare a venerdì sicuramente non riusciremo a fare quello che dobbiamo fare e a quel punto fa lì anche a capire valutare cosa faccio la muovo per poi dopo fargli prendere l'acqua e poi dopo veramente bagnarla completamente perché finché la terra è chiusa e ci piove su è un problema se tu la vai a arpicare e poi ci piove su li sono veramente dolori e cavoli quindi francamente adesso vedo dalle manovre che sta facendo il mio dipendente nel campo non lo vedo proprio andare via completamente pulito adesso vado sul trattore cerco di capire se riusciremo o no o meno a fare questa cosa qua cosa vi dico sempre che il nostro lavoro è fatto così quando non c'è il tempo che ci si mette ci si mette la meccanica a darci una mano tra virgolette a farci a farci venire quei dubbi a farci venire quelle sfide che altrimenti sarebbe troppo simpatico e bello riuscire a vincere in maniera normale tu fai puoi avere anche il doppio attrezzo puoi avere due erpici per fare le cose e poi dopo alla fine nel momento in cui li usi va a finire che per coincidenza può succedere che si rompano anche entrambi coincidenza o meno anche anche noi dobbiamo recitare un po il mia colpa perché prima di mettere via gli attrezzi si potrebbe intuire che ci sono delle problematiche a volte non è facile però alcune cose sono sono intuibili vedete alle mie spalle il lavoro che sta facendo vedete le le ancore che sono su non le stiamo usando in questo momento speriamo che dio ce la mandi buona c'è di buono che non è come l'anno scorso non siamo certamente a dicembre però vorrei evitare appunto di arrivare a dicembre come l'anno scorso e dover seminare il criticale ma vista così non sembra neanche il diavolo voi che ne dite voi avete già seminato state per farlo siete stati più veloci più svegli di me non lo so raccontatemi cosa succede nella vostra azienda ciao a tutti e buona domenica